Grazie, siamo a Dubai, Emirati Arabi Uniti, la seconda città dell'Emirati Arabi, dove c'è la torre più alta del mondo, si vede poco ma adesso andremo a vederla da vicino, vabbè vediamo il resto della città, ciao! Stiamo andando verso il Burj Khalifa, la torre più alta del mondo c'è Roma a cia di Dubai L'interno del Dubai Mall non manca niente, non manca, c'è anche la pista da pattinare ma niente, non manca niente tengo un'altra zola non manca niente non manca niente non manca niente non manca niente Grazie. Il Burj Khalifa. Eccolo qua. E qui è comunque il centro vecchio di Dubai dove risiede appunto il Burj Khalifa e qui poi fanno lo spettacolo, qui c'è il laghetto artificiale e fanno lo spettacolo con le fontane. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ora la zona del mercato, il mercato dell'oro di Dubai, il mercato dell'oro. Il mercato dell'oro, il mercato dell'oro. 5 dirham, 1 euro e 20. Palazzo Yumeran, famoso. Questa è la spiaggia pubblica di Jamel. Stiamo entrando a Dubai Marina. Grazie. Grazie. Dubai Marina. Questa è la parte anche turistica della città, dove sta il settore del yacht. Comunque è un altro settore della movita. Settore dove c'è chi mostra di avere la parte. Vediamo. Vediamo. Questa è la parte. Questa è la parte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.